E' nel cuore di Roma, tra il ghetto ebraico e il quartiere di Trastevere, culla della predicazione cristiana, che il Papa si reca nel pomeriggio di sabato a pregare per quanti soffrono persecuzioni e violenza. Nella millenaria basilica di San Bartolomeo, sull'isola tiberina, memoriale dei martiri del XX e XXI secolo, Francesco celebra con la liturgia della parola insieme alla comunità di Sant'Egidio, i testimoni della fede, coloro che hanno avuto la grazia di confessare Gesù fino alla fine. Prima dell'omelia a Bergoglio ascolta alcune toccanti testimonianze, tra cui quella di Carl Schneider, figlio di Paul, che fu ucciso in un campo di sterminio nel 1939, e poi quella di Roseline Hamel, sorella di padre Jacques, assassinato un anno fa in Francia da fondamentalisti islamici mentre celebrava messa. Il pontefice denuncia ogni forma di ideologia folle, spiega come la causa di tutte le persecuzioni scaturisca dall'odio, poi ribadisce a più riprese che la Chiesa è Chiesa solo se è fatta di martiri. Il martire può essere pensato come un eroe, ma il fondamentale del martire è che è stato un'aggraziato. C'è la grazia di Dio, non il coraggio, quello che ci fa martiri. Oggi, allo stesso modo, ci si può chiedere di che cosa ha bisogno della Chiesa di martiri, di testimoni, cioè dei santi di tutti i giorni. Il Papa annovera tra i martiri moderni anche una donna di lesbo, sgozzata davanti al marito da uomini armati solo perché cristiana, solo perché indossava un crocifisso che sotto minaccia si è rifiutata di togliere. Dona questa storia come icona di martirio e di grazia, ma da qui prende spunto per rievocare il dolore che ha visto con i suoi occhi sull'isola greca, il degrado dei campi profughi definiti simili a quelli di concentramento. Proprio con alcuni rifugiati accolti da Sant'Egidio, Francesco si intrattiene dopo la celebrazione. Il rettore di San Bartolomeo, Don Angelo Romano. Dopo la preghiera, Papa Francesco ha avuto un incontro con un gruppo di circa 65 rifugiati di varie nazionalità, alcuni provenivano dalla Siria, altri dall'Eritrea, altri dalla Nigeria, con storie diverse. È stato un incontro di grandissima cordialità tra il Papa e queste persone che l'hanno accolto direi entusiasticamente, nel senso che credo che da parte loro ci sia la chiarissima coscienza che il Papa è una persona che li difende, che li capisce, che comprende la loro umanità ferita, la loro tragedia umana e che cerca di fare di tutto perché possa incontrare una sensibilità, un'accoglienza, una disponibilità da parte di chi dovrebbe accogliere. Una visita storica e commovente, quella di Francesco, aggiunge Don Romano, che definisce San Bartolomeo un tempio di spiritualità in memoria ma anche un rifugio sicuro per gli ebrei in fuga durante la Seconda Guerra Mondiale e ancora sede nel 2000 di una commissione di studio voluta da San Giovanni Paolo II che ha prodotto 12.000 fascicoli di cristiani martirizzati nel XX secolo, ma non solo. Quando si pregava per i martiri erano presenti i rappresentanti ecumenici di tutte le Chiese perché, e questo è un altro tema caro al Papa, nel sangue dei martiri c'è un po' un segreto dell'unità della Chiesa. Nella vicenda dei martiri ci si ritrova molto più uniti. Di fronte al sacrificio dei cristiani ci si guarda con occhi diversi. Al termine della liturgia la preghiera forte per i martiri, per la pace, per i perseguitati a causa della fede, ma anche il grido di vergogna e perdono per essere molto spesso cristiani tiepidi travalicano le mura della Basilica. Infine sul piazzale un nuovo bagno di folla attende il Papa che saluta tutti con affetto, poi però rinnova un invito. Se l'Italia si accogliessero due migranti al municipio, ci sarebbe il posto per tutti.